La luce illumina ciò che riusciamo a percepire, mostrandoci la conferma di quello che vogliamo veramente vedere nel nostro universo. Non esistono maestri, guru o chi che sia a dover illuminare noi e il nostro mondo. Siamo noi che possiamo ricordarci quando e come illuminarci, sempre se lo vogliamo. L'essere umano ha sempre fatto tesoro dei buoni esempi, oppure seguito quelli poco illuminanti in assenza d'altro. Ma apparteniamo tutti alla stessa matrice, quella della luce, può renderci felici o infelici, a seconda di quello che siamo in grado di accogliere, facendo emergere parti di noi che vogliamo far risplendere, oppure lasciare l'oscurità. La luce è parte di noi, come parte di noi appartiene alla luce. Più noi lasciamo libertà alla luce, più essa ci restituirà energia, più noi opponiamo resistenza ad essa e più ce la toglierà. E quindi, splendere equivale a rendere onore al dono più prezioso, la nostra vita.